Uno dei gioielli del Piemonte è la riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, un'imponente struttura che affascina chiunque lo avvisiti. Attraverso i secoli si sono alternati vari restauratori per mantenere viva l'immagine di un patrimonio dell'umanità. La manutenzione dell'imponente complesso del Sacro Monte di Varallo è costosa e costante, un patrimonio storico di valenza internazionale che impegna l'amministrazione con investimenti ragguardevoli, ma anche per la messa a norma degli impianti elettrici, secondo le leggi attuali, come nel caso dell'Oratorio del Sepolcro. Piccole e grandi interventi atti a limitare l'invecchiamento quotidiano interno ed esterno del complesso. Continua la battaglia quotidiana dei telespettatori contro il nuovo regime del digitale terrestre. Il povero telespettatore medio è senza pace, è costretto innanzitutto a dotarsi di costose apparecchiature rispetto a un tempo, quando bastava comprare il televisore e accenderlo. Poi apparecchiature complicate che mettono a dura prova anche le capacità di comprensione, soprattutto di coloro che usufruiscono di più del televisore, cioè degli anziani. E quindi con una numerosa ondata, una forte ondata di proteste contro questo sistema che peraltro è stato adottato in Europa ma che negli Stati Uniti è già considerato obsoleto. Come se non bastasse, occorre sempre riaggiornare il decoder perché i canali compaiono e spariscono in continuazione. Non c'è quindi una stabilità dell'offerta televisiva. Fino a che punto dovremmo sopportarlo non lo sappiamo. Tutti dicono che bisogna aspettare lo switch off anche in Lombardia, ma alcuni cominciano a disperare che la televisione possa continuare a essere vista come era stato fatto finora.